Oggi un gol così non sfuggirebbe alla prova verità delle telecamere verrebbe subito annullato ma 30 anni fa l'arbitraggio in campo andava ancora ad occhio e dunque quel pugno al pallone di Diego Armando Maradona venne scambiato per un colpo di testa e quindi validato tra i fischi della tifoseria opposta. Era il 22 giugno del 1986, città del Messico, quarti di finale della Coppa del Mondo. Argentina contro Inghilterra, una sfida anche dal sapore politico perché si gioca a pochi anni di distanza dalla guerra delle Falkland. Lo stesso Maradona nel dopo partita dirà che quel gol è stato segnato un po' con la testa e un po' con la mano di Dio. Una furbizia che però gli verrà perdonata presto per un secondo gol, destinato anche questo alla storia. Da centro campo raggiungerà la porta Diego Maradona driblando in modo fantastico sei atleti della squadra avversaria oltre al loro portiere. Stavolta non ci sono né colpi di testa né di mano ma tutti di piede. Diego Armando Maradona segna il suo secondo gol. Inutile il tentativo di rimonta dell'Inghilterra. L'Argentina vince per 2 a 1 e passa in semifinale.